Voi siete la contessa della palla? Certo, ma la palla va a camminare già è arrivata fresca fresca e invece ora vi dico io chi è? Ma non so più concetta, io sono i canji, scendo sempre di lei, ma io non voglio dire, quando non ho debutato e chi va un po' con te. Ma non so più concetta, io sono i canji, scendo sempre di lei, ma io non voglio dire, esatto, ma io sono i canji, scendo sempre di lei. e voglio ti è paro per te che ho fatto a fare e ho dato la ragazza come sempre disturba oh mia 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 buon suor buon suor buonasera buonasera e buonasera a tutti quanti avete capito? no io chi è? io sono lasciata o sa si 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 e io sono sbarcata mamma da Parigi si 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 signora con la nave eh a Parigi con la nave certo che ci faceva a Parigi ah ah quello quando sono quando l'impresario mi mi incontrette mi vedette e mi dicette signori ya 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 ma bella forza fatemi vedere il repertorio e poi dovrei accosci no signore signori che avete capito il repertorio no qualche canzone ah qualche canzone e io mai credevo che era e così ci ho fatto sentire un paio di canzoni lui non è che era proprio convinto però l'ho pomata da Parigi bella Parigi bella che bella città bella magica elegante brillante scintillante bella con quella bella strada lonca 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 come si chiama? aspettate come si chiama? anche perché io me lo scordo sempre ma ma mi viene ma mi viene aspettate lo sciam lo sciam lo sciampo ieri sera lo sciampo ieri sera mamma mia mamma mia e quante volte me lo sono fatta avanti e indietro lo sciampo ieri sera e poi e poi e poi il triatro dei triatri modestamente il triatro dove mi si pieglie si si signor che rita mi si pieglie perchè? lo mettete in dubbio forse? lo sapete no qual è? quello è il più grande famoso no? lo sapete? il mulino rosso eh no signor signor quanto mai? quali sono i biscotti? la signora si confonde col mulino bianco che le è nata cosa? eh e poi e poi il più cranto monumento del mondo ah troppo bello quello alto 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 eh la torre di raffaele eh che le è fatta così la sapete? eh eh la signora la conosci eh la signora se ne ha visto un bene sopra la torre di raffaele eh eh è vero è bella la torre di raffaele e quindi siccome io sono venuta da da Parigi come vi dicevo ehm da Parigi mi sono portata a questo a questo musicisto qua lo vedete a questo musicante questo musicante qua non è che che praticamente è napoletano no 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 lui viene proprio lui è autentico parigese si si autentico parigese volete sentire? volete vedere? maestro si vuole con la music please? no quello non è che è proprio di Parigi diciamo più di Parigi di sotto maestro 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 per piacere con la musica e chiama maestro ho il tato sante che canzone no no ah oi e con le buone maniere si ottiene sempre tutto maestro vi suore buccelle che non aprile salvie e fanno e sto l'atella lavati i tasti caffè ma io sono capire la strada ma io sono capire la strada ma lei di ogni caffè chantam Sulla con la rosella, va faccia la consula, chi ma piglia va, francesa, chi ma piglia va spagnola, So quando avuto modo e lo mette la capa che gia lì, chi va che mi Ebola, promancesa, chi ma piglia va spagnola, So quando avuto modo e lo mette la capa che voi lì. Car max bene ma cosa che faccio la mano ioardate da me mi sono distorcura, Car max bene ma cosa che faccio la mano ioardate da me non sono distorcura. Olè! Olè! Grazie! Un ritorno!